Ho preso questi due blocchi che ce l'ho da 30 anni, ne ho creato un quadrato lasciando lo spazio della luce. Queste proporzioni sono studiate proprio perfettamente perché il luogo dove va esposto nella chiesa è sopra l'altare, per cui deve rappresentare la luce divina che ci illumina. Grazie a tutti.